Liceo digitalizzato, vicino a Milano, l'esperienza di una scuola dove quasi tutto è online. Ce ne parla l'inviata Elena Fusai. Non si può più arrivare in ritardo e poi quando si dimentica, arriva a scuola, se lo dimentichi, è un problema. Lo schermo segna le 8 e 20, il badge elettronico squilla pochi secondi prima della campanella. Così entrano a scuola 1200 studenti del liceo statale classico e scientifico Casirani di Cisello Balsamo, periferia di Milano. Liceo digitalizzato, qui il registro di classe è stato abolito per espariare tempo e denaro. Carta e lavoro di segreteria, un progetto da 50.000 euro sostenuto con i fondi dell'Istituto. In immediato l'abolizione del registro di classe, l'ottica della dematerializzazione. In prospettiva in realtà il lavoro è più complesso perché avendo a questo punto una wifi su tutta la scuola, in ogni classe è possibile utilizzare il computer. In cattedra i professori hanno un notebook nel quale compaiono le presenze dove i voti si sommano ottenendo media automatiche. Questo è il laboratorio dove materie come geometria diventano immagini tridimensionali forse meno indigeste. Ma c'è una classe dove tutte le lezioni si svolgono al computer con la lavagna interattiva. In futuro diventeranno tre. I studenti avranno a disposizione i tablet di ultima generazione grazie ad un finanziamento regionale di 30.000 euro. Il computer aiuta i ragazzi a organizzare un metodo di lavoro rigoroso e preciso e ordinato.